È la seconda edizione della veleggiata ad Annunziana, un evento velico e sportivo al tempo stesso che contraddistingue la parte sicuramente sportiva della settimana ad Annunziana. È la seconda edizione con oltre 40 imbarcazioni, quindi circa 300 persone di equipaggio e comincia ad avere una rilevanza anche di carattere nazionale, poiché diverse sono le imbarcazioni giunte presso la Marina di Pescara dalle città vicine. La linea di arrivo è posta proprio al centro della città, davanti alla nave di Cascella, andremo verso la stella di Annunziana per poi tornare dietro e fare due giri in maniera tale che da tutta la costa possa ammirare questa sfilata di vele.